ciao a tutti oggi è venerdì 27 ottobre 2017 e c'è la prima assemblea delle case si allegra i capitani oggi 27 ottobre è una giornata speciale nella nostra scuola perché tutti i bambini e i ragazzi della scuola si riuniranno nella prima assemblea delle case della sacra famiglia all'ordine del giorno ci sono due temi molto importanti uno è lo sviluppo della proposta educativa dell'anno che ha come tema accogliamoci e il secondo aspetto è l'elezione dei capitani delle case e soprattutto ascoltate ciò che i vostri figli i nostri ragazzi sono capaci di dire come proposta per essere capitano il capitano guida la squadra della vittoria il capitano è una persona positiva che aiuta sempre gli altri un'altra qualità del capitano è che dall'esempio aiuta la squadra a vincere il capitano vuoi sempre con lontano sono a gusto adesso vado a prendere quelli delle api sono venuto a prendere quelli delle api ciao a tutti io sono alberto armani e se diventassi un capitano dell'aquila vorrei dare esempio aiutare tutti i membri dell'aquila blu invece deve inoltre portare alla vittoria per la prima volta l'aquila blu alla coppa delle case per vincere dovremo essere uniti aiutarci a vicenda a partire dalla mensa dove siamo un punto debole per noi fino arrivare ai tornei e poi in classe e così via come valori che vorrei tenere a mente vorrei tenere a mente molto il rispetto perché sta alla base di tutto e penso che qui tutti e compreso io dovremmo imparare a tenere molto il rispetto ciao sono samuele adesso vado a chiamare i miei amici ceri venite ceri ciao sono chiara adesso tocca i tasti venite tassi venite tassi chiamare la prima volta mi presento sono amore allusia mi vuole diventare capitana con la prima volta di darvi un castello di studio vorrei che tutti i tassi seguiremo ogni attività che viene in mezzo di tutta io voglio qui oh si e se ognuno dei nostri amici, giochi, lavori e anche questi i risultati saranno cominciati e io vi aiuto allora e vi guiderò per poter guadagnare tutti i punti necessari per rinunciarlo Noi siamo come un coso, insieme siamo più e più separati, siamo molti e molte cose per noi Siamo imbattibili quando meno di noi dà il massimo Vi prometto che saprò guadagli ogni vittoria guadagnata se è possibile verso la vittoria più Ricordatevi che io voglio aiutarti e no? Noi Quindi votate per me! Forza Tassolosso! Ciao sono Marco, adesso c'è l'Assemblea delle Querce e sono venuta a prendere i miei amici Querce venite! Amici e amiche, mi presento, mi chiamo Andrea Zanatti, abito a Costilano, ho 7 anni e frequento la seconda A Mi piace praticare calcio Come capitano voglio realizzare questi progetti Riuscire a mantenere un amicizio con tutti Ascoltare tutti i bambini anche nelle altre case Giocare con tutti i bambini Inoltre i valori che terrò presente Per migliorare la qualità di vita della casa sono questi Ascolti di diversa educazione e rispetto Quattro amici Voglio le rami rarici Quattro verde sempre amici Voglio le rami rarici Quattro verde sempre amici Quattro cose per vivere Quattro colori per crescere Quattro scudi per credere Quattro non mi peressere Quattro verde sempre amici Quattro verde dictionary